Amici di Onda Libera, siamo alla Gola del Furlo, presso la Casa degli Artisti, e siamo insieme a Roberto Govesso, che ha appena terminato un suo intervento sugli alberi, sull'importanza dell'albero, su come è stato riprodotto l'albero dall'uomo, su come è stato riprodotto l'albero nelle scritture orientali. Ecco, dichiariamo, puoi raccontarci brevemente l'importanza dell'albero e perché per l'uomo è così importante? Ci hai dimostrato che l'abbiamo trovato in tutti i dipinti, in tutti i distritti, addirittura come decorazione, quindi noi viviamo con l'albero. Certo, ma diciamo che io mi occupo di comunicazione visiva, quindi mi è sempre interessato, piaciuto, poi con l'interesse viene anche il piacere quando si studiano a fondo certi aspetti della nostra cultura, mi è sempre piaciuto indagare come l'uomo ha cercato di raffigurare, di rappresentare nel corso del tempo, a seconda delle latitudini del pianeta e anche nel corso della storia, come l'uomo cerca di rappresentare quanto lo circonda. Noi abbiamo memoria dei primi tentativi di queste raffigurazioni quando guardiamo i dipinti rupestri, per esempio, del Sahara, dove si vedono queste scene di caccia. Quindi l'uomo cerca sempre di raffigurare, di narrare, di comunicare con gli altri uomini la sua vita, quello che pervade la sua esistenza. È chiaro che negli aspetti primordiali, ancestrali di questo suo rapporto di esistenza sulla terra, si raffrontava a quello che erano le sue necessità, e quindi gli animali, la caccia, vivere nelle caverne, il fuoco e quindi vivere anche a contatto con la natura. In questo piccolo percorso, questo breve percorso che ho cercato di fare oggi, raccogliendo immagini delle più disparate, volevo proprio dare un po' uno stimolo agli spettatori, a chi guardava queste immagini, per cercare di capire come nel corso del tempo, della storia, anche grandi artisti, ho fatto vedere diversi pittori italiani, anche non italiani, anche dai più antichi e più recenti, di come questi artisti, queste figure di un certo peso nell'antichità, con delle committenze importanti, fatte da nobili del tempo, hanno cercato di raffigurare questo elemento della natura, che è un elemento simbolico, come abbiamo visto già il segno cinese, che tra l'altro è molto simile al segno al geroglifico egiziano di albero, raffigura proprio questo legame, questo oggetto che tiene uniti l'aspetto terreno e l'aspetto spirituale, quindi il cielo, come l'albero svetta verso l'alto, essendo ben radicato con le sue radici nel suolo, e quindi questa figura è diventata una figura simbolica già nell'antichità, attraverso proprio dei percorsi religiosi, per far capire questa congiunzione tra il cielo e la terra e noi che viviamo questo spazio che ci è dato di dividere con i nostri simili. Quindi diciamo era un percorso visivo all'interno di queste simbologie, di questi segni, che l'uomo ha tracciato nel corso della sua storia. È una mia impressione o l'uomo moderno ha praticamente dimenticato rispetto della natura, cosa che invece era maggiormente nel passato? Perché ho letto da qualche parte che quando l'uomo sfruttava le foreste stava attento a ricrearle. Certo, certo. Cosa che oggi mi sembra che non ha caro più. Si sta un pochino ritornando a questa, con molta fatica e purtroppo in piccole parti del pianeta, però si sta ricominciando a seguire un percorso in sintonia con la natura, quindi dove tolgo rimetto. Certo, togliere alberi secolari ci vogliono secoli per rimetterli, come dire, anzi loro si rimettono da soli, noi facciamo il possibile per aiutarli. Dovremmo riuscire a convivere un pochino più in armonia. Non voglio usare il termine migliore o peggiore, sono terminologie che quantificano e qualificano degli aspetti che purtroppo noi abbiamo perso. L'uomo antico era molto più rispettoso di certe situazioni che gli si presentavano davanti. Basta guardare, mi vengono in mente le religioni animiste o lo shintoismo giapponese, che si rifà proprio alle forme della natura. L'acqua, il fuoco, la vita, la terra, le piante. C'era un aspetto sicuramente molto più intenso, ma era sempre legato a questioni religiose sostanzialmente. Poi l'uomo ha perso Dio e quindi tutto si è andato. Mi sembra che ci sia anche, come hai citato adesso la cultura orientale, mi sembra che ci sia un grosso divario di come viene trattata la natura tra gli orientali e gli occidentali. Mi sembra che gli orientali, soprattutto i giapponesi, hanno proprio una grande attenzione nel cercare di non modificare, per cui le loro stesse costruzioni si integrano. Cosa che invece in occidente, mi sembra che questa cosa non ci sia, noi portiamo più a togliere per mettere l'insediamento umano. Sì, è sempre un discorso molto legato alle tradizioni. Noi in occidente abbiamo perso, per questioni politiche, anche economiche e anche di semplice utilitarismo, abbiamo perso un po' il senso di quello che è un vivere armonico con questi elementi. Gli orientali sicuramente sono sempre stati molto attenti a questo aspetto. I giapponesi, più di qualsiasi altro popolo, cercano ancora di mantenere molto radicate le tradizioni. E parlo di artigiani che usano la terra per fare i loro vasellami, le loro tazze per le cerimonie, terra che gli ha mantenuto il nonno, che il nonno ha conservato per i nipoti, eccetera. Insomma, c'è comunque un cercare di... Però sono piccole isole in oceani di disastro. Bene, grazie amici di Onda Libera, un saluto. Arrivederci.